Se te ti svegli la mattina e c'hai poca energia, è giusto così, è perché di notte i sogni consumano praticamente tutta l'energia psichica del tuo apparato psicofisico, capito? La mattina sei scarico, allora devi fare una meditazione trascendentale, ti siedi per terra con la ginocchia sul letto, i gomiti appoggiati al tavolo, praticamente, e devi dire 14 volte 66, 66, 66, 66, che è il numero del diavolo senza una cifra però. E questo fa in modo di creare un attrito nell'aldilà, quello contemporaneo, praticamente, odierno, e questo dà un sacco di energia. Se in casa c'è qualcuno che ti sente fare questo per tanto tempo, è possibile che loro chiamano qualcuno di bravo che ti aiuti e anche questo dà tanta energia. Se lo fai a voce molto alta, magari viene il vicino, magari ti sveglia alle 6 e comincia 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66. Viene lui e ti dà delle legnate, anche quello aiuta comunque a... E c'è, no? È giusto. Ricominci la giornata con slancio.